L'incontro con Gesù oggi, come duemila anni fa, è una questione di cuore, di sguardi, di commozione che prende fin nelle viscere e più nella sua persona che nella sua dottrina. Per parlare della vita di Gesù, che è il nuovo libro di Andrea Tornielli, ti diamo il buongiorno e il benvenuto e il grazie per questa sveglia al mattino, scrittore, giornalista, direttore editoriale del Di Castero per la Comunicazione del Vaticano. Andrea, con te abbiamo detto, conosciamo Gesù, tra l'altro nel giorno in cui proprio si celebra il Cristo Re, conosciamo, nel giorno, nel fine settimana, nella domenica che si celebra il Cristo Re, conosciamo un Gesù umano. Tu di fatto in questo libro leggi il Vangelo ma lo fai diventare quasi un romanzo, quasi come se quel Gesù a cui siamo abituati diventa uno di noi, una persona vera, una persona in carne ed ossa che magari vive anche il nostro tempo. Sì, lo scopo, l'idea del libro è proprio quella di aiutarci ad entrare nelle scene del Vangelo, perché noi solitamente quando leggiamo o ascoltiamo il Vangelo a Messa siamo abituati a trarre delle conseguenze per la nostra vita, a trarre delle dottrine, dottrine morali, insegnamenti, ma siamo meno abituati a stare lì, proprio mentre accadono gli avvenimenti. Per quanto riguarda l'umanità di Gesù, mi sembra di poter dire che la sua divinità ha potenziato all'ennesima potenza l'umanità e dunque il Vangelo è una storia di incontri, di sguardi, di gesti, non soltanto di parole. Aiutarci a stare dentro queste scene, secondo me, aiuta a rendere il Vangelo come è attuale per noi oggi. E infatti è un viaggio che parte da duemila anni fa ma arriva e percorre la contemporaneità con le riflessioni e anche le omelie di Papa Francesco naturalmente e la ricostruzione con l'immaginazione di ciò che i Vangeli non hanno scritto. In questo studio che hai fatto e in questo viaggio che hai fatto all'interno dei Vangeli ci sono anche dei momenti che ti hanno particolarmente colpito e delle figure che hai notato e che rivedendole, ristudiandole ti hanno scatenato qualche cosa. Sì, certamente. Innanzitutto la figura di Maria e il suo grande coraggio pensare a questa ragazza di 14 anni dopo l'annuncio dell'Angelo quando resta da sola con questo grande segreto che lei custodisce nel suo ventre e il fatto che in quel momento ha tutto contro attorno a sé. Ma poi c'è la figura che mi è tanto cara del centurione romano che chiede a Gesù un miracolo ma dice di non essere degno che lui entri nella sua casa. Nel Vangelo abbiamo tante scene dove Gesù entra nelle case dei peccatori, dei pubblicani scandalizzando i benpensanti dell'epoca, però lui va a casa delle persone e mangia con le persone. Questo romano si ritiene indegno che lui entri a casa sua, però ha una fede grandissima che colpisce e commuove Gesù che dice ai suoi in tutto Israele non ho trovato una fede come in quest'uomo che era un pagano. E poi c'è anche Zaccheo che è un'altra persona, un'altra storia eccezionale fatta di sguardi con Gesù che lo guarda mentre passa sotto l'albero e gli dice oggi vengo a casa tua. Questo ci riporta di fatto a rivedere questo libro, cioè tanto è stato scritto sulla vita di Gesù ovviamente in duemila anni c'è tanto che è stato già detto, tanto che è stato conosciuto di fatto già i Vangeli ci raccontano un po' Gesù, ma con questo libro tu hai voluto portarci proprio in quell'attualità del tempo. Se non fosse altro che per esempio che tutti i capitoli iniziano con una citazione ma poi sotto c'è scritto per esempio, ho preso uno a caso, anno 30 dopo Cristo, febbraio-marzo cioè ci porta proprio in quella che ce n'è uno di agosto, giugno-agosto, cioè ci riporta proprio a rivivere quel tempo, riporci in quei panni dove di fatto ognuno di noi potrebbe essere quel personaggio che crede di non essere degno e guardare dall'alto Gesù, cioè ci fai vivere proprio quel tempo con questo libro? Sì, credo che sia importante cercare di costruire, ovviamente le date sono un'ipotesi ma un'ipotesi abbastanza fondata rispetto al racconto dei Vangeli e al parere maggioritario tra gli studiosi. Ci ricorda questo, che il Vangelo non è un romanzo o una storia senza tempo, ma è avvenuta in un tempo determinato e allo stesso tempo che ha una straordinaria contemporaneità, perché è una cosa che nota il Papa ma che sappiamo è che uno può aver ascoltato cento volte un brano del Vangelo e la centunesima volta scopre qualcosa di nuovo, viene colpito da qualche particolare nuovo. l'intento del libro è proprio quello di provare a suscitare la bellezza dell'incontro con Gesù e con il suo sguardo e anche accompagnare in un racconto che va dall'inizio alla fine della storia, la storia la conosciamo, non occorre spoilerarla, però accompagnare magari anche il lettore che non ha tutta questa dimestichezza con il Vangelo e che avrebbe più difficoltà a leggere i quattro Vangeli uno dopo l'altro e io li ho cercati insieme segnalando sempre molto bene, perché nel libro sostanzialmente il Vangelo c'è quasi tutto, anche proprio come parole autorevoli. E a dimostrazione anche del fatto che è qualcosa che non è, i Vangeli non sono un romanzo, ma è qualcosa che è avvenuto nel tempo, perché è una storia che si è incarnata e che è avvenuta in un momento preciso storico. C'è una riflessione tua di quando stavi ascoltando la sfilza di persone che seguono Gesù e senti dei nomi che si ripetono e ti domandi, ma quale romanziere oggi farebbe una cosa così difficile da ripetere dei nomi, da creare dei doppioni di nomi? Questi sono dei piccoli momenti che magari uno non ci pensa, però ci danno quelle informazioni in più di carattere storico, lo contestualizzano rispetto a una storia. Sì, a me ha sempre colpito e anche confortato scorgere gli indizi di storicità che ci sono nei Vangeli e quella cosa che racconto è che pur avendo io ascoltato tante volte quel brano del Vangelo, soltanto una volta, era durante il lockdown, partecipando alla messa a Radio Vaticana, ascolto il Vangelo con l'elenco dei dodici apostoli e mi rendo conto vedendo, leggendogli, perché avevo anche il testo davanti, perché era una messa celebrata in latino, vedendo che tre di quei dodici hanno nomi doppi, cioè con lo stesso nome e se voi prendete un romanzo giallo di Agatha Christie o personaggi di un dramma teatrale difficilmente e quasi mai si trovano dei doppioni perché confondono il lettore e dunque questo è un piccolissimo indizio tra i tanti perché ogni pagina del Vangelo, diciamo così, trova degli appigli storici e possiamo dire che non c'è una scoperta storica o archeologica che smentisca una pagina del Vangelo, finora non c'è stata. Dunque secondo me, senza esagerare l'importanza di questi indizi, però ci aiutano a capire che quella che leggiamo è una storia vera che è realmente accaduta. Questo ci porta anche al commento di Papa Francesco, abbiamo detto che in qualche modo tu prendi un po' a spunto alcune delle sue riflessioni, altre sono scritte appositamente per questo libro come l'introduzione e noi seguiamo anche l'udienza del mercoledì del Papa qui a Di Bomattino e spesso sentiamo quell'invito di Papa Francesco di ritornare al Vangelo, di ritornare alla lettura del Vangelo, addirittura dice non uscite di casa senza un piccolo Vangelo tascabile proprio perché lui te lo dice nell'introduzione, l'amore ha bisogno di contatto e quel contatto noi possiamo averlo tramite le scritture. Sì, il Papa ripete spesso, l'ha ripetuto tante volte anche dalla finestra all'Angelus di non uscire di casa senza un piccolo Vangelo. Oggi con le tecnologie non occorre neanche avere il libretto ma è facile avere anche il contatto con il Vangelo del giorno e questo significa non perdere un giorno senza avere un contatto perché come dice il Papa l'amore non si può fare per posta, una relazione amorosa non si può coltivare solo per posta, sì si può fare ma c'è bisogno di un contatto, di vedersi, di parlarsi, di guardarsi negli occhi e dunque in questo senso l'invito è proprio quello a leggerlo, a leggere il Vangelo e questo è qualcosa che appartiene molto anche alla spiritualità di Sant'Ignazio ma quest'idea di immaginazione non come volo della fantasia ma immaginazione per entrare nella scena del Vangelo, per essere lì e dunque per immaginare come ho cercato di fare io nel libro nomi, volti, caratteristiche fisiche, colore dei vestiti, temperatura atmosferica cose che ovviamente il Vangelo non ci sono, il Vangelo sono tanti personaggi che non hanno nome io gli ho dato un nome e questo sforzo di immaginazione, questo lavoro di immaginazione ci aiuta ad entrare e a stare nelle scene del Vangelo, dunque ad entrare e a stare sotto lo sguardo di Gesù e questo ingresso è per tutti, il Vangelo è per tutti, ne è testimonianza il fatto che abbiamo un minuto per chiudere che la prima presentazione di questo libro è stata fatta in un carcere Sì, è stato bello grazie all'amico Arnoldo Mosca Mondadori della fondazione Casa dello Spirito e delle Arti presentare il libro il 27 settembre, il giorno dell'uscita in libreria nel carcere milanese di Opera dove più di cento detenuti hanno partecipato e dove molti di loro a gruppi avevano avuto le bozze del libro prima dell'uscita e si erano preparati leggendolo ed è stato un incontro bellissimo con uno scambio libero insieme all'Arcivescovo di Milano Mario Delpini e al cantautore Roberto Vecchioni ma ecco nel carcere in queste situazioni si tocca con mano proprio come il Vangelo entri nelle ferite dell'umanità e il peso, il valore esistenziale che hanno le parole perdono e misericordia in luoghi come il carcere si percepisce e quale si misura fisicamente Grazie ad Andrea Tornielli, io lo ricordo ancora una volta, Vita di Gesù con il commento di Papa Francesco edito da PM, un modo per entrare all'interno di quel Vangelo magari anche con dei fatti concreti che ci riportano alla vita quotidiana. Grazie mille Andrea per essere stato con noi Grazie mille Andrea